Okiku, la bambola giapponese misteriosa. È una bambola vestita con kimono. Questa si racconta che pare essere posseduta da uno spirito. I suoi capelli, lunghi e neri, pari che crescano, nei periodi come quelli umani. La bambola venne analizzata da alcuni ricercatori e scoprirono che effettivamente i capelli erano come quelli dei ragazzi di 10 anni. E la stessa bambola sembrerebbe una ragazza intorno ai 10 anni, che sembra essere morta tragicamente. E venne realizzato questo oggetto in ricordo della sfortunata storia della ragazza. Anche il suo nome prese spunto dalla tragica storia. Infatti riportava lo stesso nome della fanciulla. La bambola misura 40 centimetri. vestita con un bellissimo kimono rosso. La bambola si trova dal 1938 al Maneniji di Hokkaido. La bambola inizialmente venne comprata da un giovane che la comprò in un mercato a Sapporo, sempre in Giappone. Era un regalo per la sorellina Okiku. Il ragazzo regalò la bambola alla sorellina minore. Purtroppo questa morì dopo pochi anni a causa di una febbre altissima. Con la morte della bambina alla bambola misteriosamente iniziarono a crescere i capelli. La famiglia pensò che la bambola custodisse al proprio interno lo spirito della bambina, al che decisero di lasciarla dove riposava la bambina, nel tempio di Maneniji ad Hokkaido. Venne informato anche il custodie del tempio di quella strana bambola e lo stesso osservò che effettivamente i capelli erano cresciuti fino alla lunghezza di 25 centimetri. Una volta arrivati all'altezza delle ginocchia della bambola, i capelli furono tagliati, ma questi continuavano a ricrescere. Ed allora un campione di capello venne analizzato in laboratorio e il capello corrispondeva a un vero capello umano di un bambino dell'età di dieci anni, alimentando il mistero che si è creato attorno a quella piccola bambola.